Ciao a tutti, da Lauretta Buffa di Visionaire.fm è arrivato l'appuntamento con le notizie dal mondo del cinema e delle serie tv. Sono iniziate lungo la strada che costeggia la sponda bergamasca del lago di Seo le riprese di Devon House, il sequel targato Netflix di The Old Guard, film con Charlize Theron, che ne ha anche la produttrice, Uma Thurman e l'italiano Luca Marinelli. La produzione, per poter girare alcune scene di inseguimenti diciamo ad alto impatto visivo, ci siamo capiti, ha chiesto la chiusura di alcune strade, in particolare quella tra la località Gre di Riva di Solto e Castro, quindi attenzione. Con l'aiuto di personale addetto, comunque i residenti delle case che si affacciano sul luogo delle riprese potranno accedere alle loro abitazioni e ci mancherebbe, mi verrebbe da dire. Venerdì 5 la chiusura si sposta tra il ristorante Zoo e il comune di Tavernola Bergamasca, dalle 7 alle 21. Il film è basato sul fumetto The Old Guard, che racconta le avventure di un gruppo di soldati immortali. Per oggi è tutto, ma per altre curiosità e novità sul mondo del cinema e delle serie tv, venite a trovarmi sui social oppure sul sito visionaire.fm. Ciao ciao e a domani!